Ora diamo un'occhiata a un po' di sistemi ottiche, modalità di approccio varie ed eventuali alla misurazione dei dati e dei risultati di quello che può succedere quando noi abbiamo intrapreso una campagna di digital strategy. E diciamo di quello che si può fare. Dunque, vediamo un po', chiudiamo il telefono. Dunque, direi che questo concetto, no, avete la nausea ormai, quindi dovremmo averlo. Diamo un po' di attenzione all'ultima parte, cioè sul discorso di ragionare su obiettivi e risultati l'abbiamo già fatto anche la volta scorsa, no, con la prima parte del workbook e lo rifaremo oggi pomeriggio. Per chi non c'era la volta scorsa. E poi bisogna cominciare a lavorare sulla valutazione. Perché? Perché se quello che stiamo facendo non serve a niente, non va bene. E quindi se non serve a niente dobbiamo perlomeno farlo servire a farsi capire delle cose. Quindi, come impariamo a valutare l'impatto di quello che stiamo facendo? Come ci mettiamo a misurare i risultati? L'abbiamo detto infinite volte, il primo passo è il discorso su il goal setting. Lo faccio velocemente questa parte qui perché l'abbiamo veramente ripetuto tante tante volte. È settare degli obiettivi chiari. Quindi, lo dicevamo anche l'altra volta, essere realistici, si confrontare le azioni con le risorse e il budget, siamo stati spinti a farlo anche ieri durante la pianificazione del channel mix. In ogni parte del progetto bisogna confrontare quello che si dice di voler fare con le risorse e il budget a disposizione, sempre, in qualunque momento, in modo da essere sempre realistici e non disperdersi. Questo si può fare e si può cercare di portarlo poi a una fase di valutazione se io sono stato in grado anche di fissare i cosiddetti KP, cioè Key Performance Indicator. Quelli che poi, quando avrò terminato il progetto, mi diranno come ho performato in ogni parte del progetto. Non deve essere uno, cioè è stato bello o è stato brutto. No, devono essere tanti perché posso rendermi conto di quali parti del progetto sono andate bene, quali parti del progetto sono andate male, perché chi ne era responsabile, anche, perché non abbiamo una cultura del terrore e della colpa, ma anzi cerchiamo di capire le responsabilità per poi fare meglio le cose dopo, e soprattutto per cercare di migliorare di volta in volta anche l'orientamento del progetto. Perché magari io penso che il mio progetto serva a migliorare la conoscenza sui fenici nel territorio e invece mi accorgo che ha un impatto enorme sull'occupazione del tempo libero degli anziani, per esempio. Quindi c'è, devo sapere quello che sto facendo anche per poterlo poi dimostrare agli altri quando me lo chiedono e poterlo raccontare. Appunto, per cosa lo devo fare? Per rifare meglio il progetto, per capire se è andato bene e perché è andato male, per capire che cosa è andato male e smettere di farlo, per poter presentare il progetto. Cioè, finché io mi faccio le mie idee, me le sviluppo, vado in giro e me le racconto da solo, me la canto e me la suono, non posso anche far finta di niente. Ma nel momento in cui devo raccontarlo a qualcun altro, soprattutto se i miei interlocutori voglio, come vado in giro bullandomi, a dire che siano privati, allora, in quel caso lì, parlare il linguaggio dei privati, quindi parlare in termini di raggiungimento di performance, di numeri anche, spesso e volentieri, aiuta molto questo dialogo. E poi ti fa apparire molto più serio e più che hai conoscenza di quello che stai facendo. Cioè, lo sapete molto bene, perché magari per studi, per scrivere delle tesi, per scrivere dei paper, siete andati a chiedere dei dati a qualche situazione culturale, ma quanti visitatori hai? Ah, boh, più o meno. Com'è a boh, più o meno? Tu ogni giorno dovresti aggiornare quanto c'è, se non lo sai oggi lo dovresti sapere domani, cioè dovresti sapere ogni giorno quanto la tua organizzazione performa. E magari dirlo anche agli altri, anche se sono poche persone. C'era, ve ne parlavo anche la volta scorsa, il museo di Indianapolis, che aveva una dashboard sul proprio sito dove c'era scritto di sempre aggiornato quanti visitatori stavano entrando nel corso dell'anno, cioè non è che in tempo reale se tu entravi aumentava il numero, però di giorno in giorno lo aggiornavano e c'era scritto anche quanti soldi ricevevano. Quindi era tutto pubblico e aperto, cioè la gente sapeva quanti fondi avevano, ok? Cosa facevano, che attività facevano, perché questo non si può sapere? Sono spesso e volentieri, parliamo anche di istituzioni pubbliche, no? Quindi va bene, cioè certe cose, è controverso, chiaramente controverso, però per darvi l'idea del grado di apertura anche che questi dati possono avere. E quindi guadagni credibilità. E per rendere conto a chi ti sostiene. Cioè se tu hai fatto una determinata azione, di nuovo non è che deve esserci un indicatore numero di persone che hanno partecipato, però dieci che tu hai pensato, che secondo te sono quelli che raccontano meglio quello che stai facendo, con cui puoi raccontare. Quindi non è che deve essere, ah, ho duemila like sulla pagina di Facebook. No, cioè quello è magari anche quanto quelli lì stanno commentando, quanto parlano, quanto ti rispondono, che tipo di interazione c'è, quanti di un rapporto tra quelli che sono lì e quelli che si presentano, se vuoi sapere se quelli che vengono l'hanno saputo tramite Facebook, cioè tutte queste cose qui, no? E questo deve essere chiaro, no? C'è una distinzione che deve essere chiara. Stesso discorso di prima. Sono concetti che sappiamo, sono concetti banali, se vogliamo, di senso comune, però questi dati hanno uso interno ed esterno. Mi servono per guidare quello che faccio io e per convincere gli altri che quello che faccio io ha degli effetti. Goal setting, lo dicevamo anche l'altra volta. Perdere molto tempo, quindi investire molto tempo nella definizione degli obiettivi per capire la direzione della strategia e capire come misurare il successo. Cioè che cos'è il successo per me? Come definisco il successo? Quando è che il mio festival è andato bene? Cosa vuol dire che il mio festival è andato bene? Non lo so, devo mettermi lì e dire ok, se succede questa cosa il festival è andato bene, se succede quest'altra il festival è andato male, se succede così è andato, insomma potrebbe andare meglio, però dai, la sufficienza ce la diamo. Cioè, questo deve essere chiaro, in modo, perlomeno per noi, no? Poi, con gli altri, sulla comunicazione si ragionerà in un'altra maniera, ma perlomeno per noi deve essere chiaro se le cose stanno andando bene o male. Quindi, andare ad analizzare il contesto di riferimento per capire, per dare una linea temporale a questi dati, perché altrimenti io, come, cioè, se devo misurare a un qualche tipo di impatto, se è andato, cosa c'era prima e cosa c'era dopo, un po', no? Un effetto prima e dopo cura dimagrante, dovrò averlo, perché altrimenti, di cosa stiamo parlando? Pensare che anche, ho fatto un evento, sei mesi, un anno dopo, stiamo parlando di due misurazioni, quindi non cento, due, sei mesi dopo, un anno dopo, magari me le posso permettere. Perché? Abbiamo avuto la testimone stamattina, magari io ho lavorato per otto mesi, e poi la gente se ne accorge dopo che sono successe delle cose. E io non voglio perderla, quella misurazione lì, perché magari mi aggiunge del valore. E magari tra sei mesi c'è dell'altra gente che gliel'ha detto, cioè, capito? Aumenta, ce lo sappiamo, ce ne lamentiamo tutti i giorni che la cultura ha un effetto lento, che bisogna fare dei ragionamenti a medio termine, a lungo termine. Allora, però, facciamo dei ragionamenti a medio termine, a lungo termine, ma non facciamo delle misurazioni a medio termine, a lungo termine, no, facciamo anche le misurazioni, così dimostriamo che c'è un effetto. Poi, non tutto questo è scientifico, no? Cioè, lo dico come disclaimer tutte le volte. Cioè, non è che uno fa questo e allora va tutto a posto, no? Uno fa questo e comunque c'è da lavorare ancora. Quindi, almeno questo bisogna farlo. È la base di partenza, non è che dimostro tutto, tutti i dati, so come raccoglierli, eccetera. Alcuni dati sono molto difficili da raccogliere, altri non si riescono proprio a raccogliere. Cioè, quanto piace l'archeologia prima e dopo il mio festival di archeologia, come è? Cioè, datele il microfono, perché sennò... Ah, è qua. Pensavo fosse disperso. Datele il microfono. Nel senso, penso che sia nel momento in cui uno magari cerca di progettare o anche soltanto l'idea, no? Di una manifestazione, qualcosa. Cioè, io penso che il primo scoglio è quello. Cioè, l'analisi del contesto. Come fai? Dove vai a prendere i dati? Certo, certo. Perché uno chiaramente non può sapere tutto. Cioè, anche soltanto quello che dicevamo prima, sapere dove si trova un pubblico che noi vogliamo raggiungere, no? Sì. Cioè, uno magari va avanti per... Perdi. Cioè, non si può andare avanti per supposizioni. Come si fa? Cerchi. Cioè, allora, parti da internet, parti dai posti. Cioè, prendi tre giorni, vai in giro nei bar, a parlare con la gente, e gli chiedi... Ricerca sul campo. Scusa, sì. Sì? Cioè, noi ci sono... Quando tu fai delle azioni in dei quartieri, in particolare, questo è sempre il mezzogiorno, che... Sì, mezzogiorno di fuoco. Ricordiamoci che è mezzogiorno. E... Con sommo gaudio. No, è lungo. È lungo? Allora, si vede. Un minuto almeno. Allora, sì, esatto. Scendi nei luoghi che ti interessano. Veramente, non dico i bar a caso. Non so che anche fermare degli anziani che stanno al bar e chiedergli delle cose. Quante volte sei entrato in un museo? Cioè, già il fatto che tu vada lì a chiedere quante volte sei entrato in un museo a una persona, già questo gli fa partire dei ragionamenti, no? Cioè, dice, eh, perché mi stai chiedendo questa cosa? Cioè, ah, ma conosci questo festival? No, già questo lo informa che c'è quel festival. Magari torna a casa e dice alla moglie, oh, sai che oggi sono venuti dei ragazzi a chiedermi, tu lo sapevi che c'era questa cosa? No, eh. Vedi, giovani dicono che non fa mai niente, invece, cioè, capito? Già questo è un tipo di interazione col territorio. Magari ti fai dare anche, magari, non lo so, la volta dopo, che tu torni dopo sei mesi e glielo richiedi, gli chiedi delle altre cose, eccetera. Cioè, si fa, insomma, pensale, cioè, metti insieme un po' di cose, un po' di azione online, l'altra cosa che fai è vai su Google, fai un Google Form e lo giri a tutte le persone che conosci. Cioè, è chiaro che è parziale ed è biased, come dicono. Eh? Sì, fai un sondaggio, hai capito, vedi un po' tra chi conosce te, chi conoscono gli altri, è chiaro, lasciatelo pur qua in giro, perché, perché, capito, già, è chiaro che è parziale, no? Però voglio dire, è meglio una cosa parziale che niente. No, lo dico anche per questo, lo dico anche in streaming, non è meglio niente che una cosa parziale, è meglio avere dei dati, sapendo che sono i dati sbagliati e parziali, ma averli, che non avere niente. poi gli amici che mi scrivono stressandomi che devo compilare dei Google Form, io li detesto e molto spesso non lo faccio, perché non è così che si fa, perché non è che puoi chiedere a me perché sono tuo amico di compilarti un questionario, capito? Lo chiedi in giro, però, ti organizzi, magari prendi un po' di amici presi da, da quelli della pallavolo, quelli della palestra, quelli del bar, quelli della scuola, no? E così almeno sai che sono ambienti diversi e chiedi a loro di distribuirli in forma anonima. Poi magari ne raccogli 15, non lo so, però ti organizzi in modo da fare questa cosa qua. E anche un'immagine, no? Più o meno. Sì, quello viene un po' dopo. Certo. Noi sono gli accordi. Sì, esatto, esatto. È la mappatura iniziale con la quale cominci a raccogliere informazioni per il contesto. Così, già, però, per dire, è più difficile capire quali domande fare che poi a chi farle, no? Perché, per esempio, un'altra cosa è, e questo è un classico, che a un certo punto all'organizzazione viene l'urgenza, il bisogno, proprio gli scappa un questionario e fanno dei questionari di otto pagine perché tutti improvvisamente si accorgono che non sanno niente e devono sapere tutto. Ora, se a me arriva un questionario di otto pagine, io mi giro dall'altra parte e corro, veloce. Quindi, capito, non è detto che premi quello, magari preferisco avere quattro domande a cui la gente risponde. E, voglio dire, questo è fattibile, capito, non è, cioè, lo fai girare, ci provi, ti dai un tempo, non ti dai due giorni, ti dai un mese, magari cominci a girare un mese prima, capito, fai girare per un mese, alla fine magari un centinaio di rispondenti riesci a raccoglierli. Meglio di niente, insomma, no? Un po' di, sai che tra quelli lì che è un campione sbagliato, non statisticamente rilevante, tutto quello che vuoi, esatto, però è già una cosa. Inoltre, come dicevo l'altra volta, non stiamo qui a decidere adesso come fare queste cose qui perché è noioso e lo potete trovare voi andando su SlideShare o cercando su Google come fare un questionario statisticamente rilevante e ve lo fate da soli. Perché io, per me è importante che voi lo facciate, non che lo facciate così con quel metodo lì, quel metodo là o quell'altro metodo là. Cioè l'importante, cioè se poi voi volete approfondire il discorso, ci sono diversi modi di farlo, lo potete fare. L'importante è che sappiate che c'è da fare questa cosa qua. Prima, durante e dopo. Quindi, magari durante salta, prima e dopo, e poi dopo sei mesi, poi dopo un anno. Cioè, domanda? No, volevo solo fare una piccola osservazione riguardo al fatto della necessità di interagire col territorio. che qui in Salento c'è un festival che è del cinema che è riuscito a raggiungere questo risultato negli anni perché ha coinvolto tutta la cittadinanza e nelle prime edizioni è partito abbastanza in sordina, però adesso è diventato un evento estivo dell'estate. E vabbè, diciamo che l'argomento siccome è un festival documentarista, quindi di documentari, quindi in qualche modo era anche diciamo contestuale che venisse coinvolta la cittadinanza. Sì, ok. Però l'anno scorso io penso che ci fossero mille persone in un paese che è specchia. Che ne ha 20, sì. Sì, che ce ne ha. No, lo so. No, adesso scherzo. Sì, sì, no, è un paese molto piccolo però l'organizzatore... È comunque un successo relativo rispetto alla dimensione dell'organizzazione è interessante. Sì, sì, sì. No, no, ma allora introduco un altro concetto in maniera provocatoria però capiamo tutti perché siamo qui e quindi non voglio... Allora, noi siamo degli imprenditori tutti. Un imprenditore che fa scarpe adesso il settore delle scarpe diventa il paragone costante però dà per scontato che il primo anno farà una perdita. Per scontato che il primo anno farà una perdita. Quando tu fai un business plan di qualunque cosa almeno lo fai triennale, no? Cioè, il triennio di solito è la cosa... Poi se sei particolarmente infoiato lo fai quinquennale, no? Ora, e hai molti soldi da buttare via. Ora, perché noi invece se non vengono persone il primo anno ci demoralizziamo? Cioè, il discorso è lo stesso quando... Di nuovo, sempre quel discorso adesso mi dispiace prendere come cavia però Twitter il primo anno no, il secondo sì. Cioè, usiamo la variabile temporale quando pianifichiamo e facciamo un business plan anche se anche un'organizzazione culturale ha un business plan quindi c'è la cultura medio-lungo termine i risultati le cose non ci nascondiamo io tra queste cose e sfruttiamole invece anche per la nostra serenità mentale cioè se io sto organizzando qualcosa e non ha successo il primo anno è perché sto facendo un lavoro di comunità che pagherà al terzo. Sì, io non so se loro avessero in mente questo piano probabilmente no però lo portavo come esempio della validità di coinvolgere la cittadinanza che poi anche lì è un paese dove la media è veramente alta e però sono stati molto bravi perché anche nei video di presentazione di promozione loro coinvolgevano gli anziani che oramai conoscono questa intelligenza non deve essere un project manager può anche essere solo intelligente io credo che neanche a Revine Lago fossero tutti i project manager cioè chi se ne frega ci sono una serie di project manager che poi sono stupidi e quindi vanno in giro fanno tutte le cose con il loro gogante però non funziona niente quindi l'intelligenza rimane un criterio importante per fare le cose non vorrei che voi aveste travisato che uno può essere scemo e applicare i concetti del project manager chissà cosa ottiene il project manager è una cosa che in strutture di confusione aiuta a rimanere lucidi e quindi a poter applicare meglio la propria intelligenza però se uno è un operatore culturale motivato e intelligente lo sa che deve lavorare con la propria comunità ma lo sente cioè se gli operatori culturali che non lavorano in questa maniera tendenzialmente o ci hanno provato ma non hanno capito bene come fare e hanno agitato la spugna o dovevano fare un altro lavoro come i medici che girano evitando i malati però a questo proposito mi viene in mente una cosa cioè se in determinati territori non è detto che ci sia una risposta cioè è vero quello che abbiamo detto prima il sapere anche comunicare evitare l'atteggiamento di rama la gente non mi capisce e quindi magari rielaborare il messaggio ok però in effetti ci sono alcuni territori in cui magari non c'è risposta perché non c'è interesse e quindi si rinuncia cioè nel senso questa domanda si lo so no dipende da tante cose però ci sono le progetti non lo so non lo so questa non è una domanda a cui posso rispondere ovviamente non è che esiste una regola io credo che si può cioè anche rinunciare va bene cioè noi adesso questo è un dato culturale nazionale abbiamo il terrore del fallimento altre nazioni altre culture non ce l'hanno e hanno altri difetti molto magari peggio di questo qui noi lo dicevamo anche l'altra volta non so se tu vai negli Stati Uniti a avere un'azienda che fallisce o che è fallito avere alle spalle due o tre fallimenti di aziende vabbè certo non è una cosa bella però è una cosa che può succedere da noi se tu fallisci ti impicchi la gente si suicida perché è una cosa terribile allora tu puoi anche essere che sei lì che stai cercando in tutte le maniere di andare a installare un progetto di arte contemporanea in una zona dove questa cosa qui non c'entra niente ora io ti dico sono sempre scettico sul fatto che qualcosa possa non funzionare in un determinato territorio perché quel territorio non è assolutamente ricettivo a quella cosa lì ci sono dei territori dove le cose non sono mai state fatte e quindi può essere che non ci sia proprio il linguaggio per poter comunicare quel valore lì o ci siano dei preconcetti tali che sia molto più difficile passare oltre e può essere che quello sforzo lì non sia fattibile dall'organizzazione che ci sta provando e quindi non ci sono i criteri di sostenibilità e quindi la cosa non si può fare questo può succedere ma che esista un territorio in cui per dire l'arte contemporanea non può venire capita secondo me secondo me però non è non è vero perché se tu comunque qualunque tipo di cultura di azione culturale porta dei valori e non è che esistono dei valori che in un posto non c'è che non so la paura della morte lì non ce l'hanno o non so la paura dell'eterno la paura della noia o tutte le cose di cui può parlare l'arte lì non vengono no lì non le sentono cosa vuol dire quindi poi è chiaro che un progetto particolare può essere più discutibile in un territorio piuttosto che in un altro però stiamo parlando veramente troppo in generale cioè bisogna andare a vedere nello specifico e di nuovo se uno ha fatto questo tipo di lavori magari sa perché cioè se per dire tu ti accorgi facendo un lavoro di contesto iniziale che c'è un grosso pregiudizio nei confronti di quello che tu stai facendo sai che dovrai lavorare con più attenzione sai che sarà più difficile sai che devi innanzitutto affrontare quel pregiudizio e quindi forse il primo festival non lo fai lo fai chiedendo agli altri di fare delle cose di fare una serie di laboratori stiamo affiancando adesso un progetto per l'innovazione sociale che prima di fare un incubatore ha deciso di fare un progetto che serve per capire se dell'incubatore c'è bisogno qui adesso è un periodo che spuntano fuori incubatori di innovazione sociale ogni 15 metri loro hanno deciso sai cosa ti dico è diventato anche buio adesso sai cosa ti dico prima di fare un incubatore di innovazione sociale facciamo un progetto che dura mesi un anno in cui analizziamo facciamo dei laboratori e capiamo se ce n'è bisogno questo è un modo di procedere quindi forse lì prima di fare un festival di arte contemporanea magari per sei mesi parlo con la popolazione locale e cerco di capire e va bene questo insomma adesso l'abbiamo l'abbiamo detto e ridetto per esempio vediamo un po' esattamente come come funzionano queste cose allora dovrò avere sempre a partire dal target una strategia di presidio tematico per cui nel mio tema io sono posizionato in una certa maniera facendo quello che si chiama benchmarking cioè chi c'è in questo settore chi è una voce importante in questo settore come sono io rispetto a questa voce come sono percepito io all'interno del settore come mi differenzio io dalle altre voci all'interno di questo settore e capire come io sto presidiando quel determinato tema anche a livello geografico quindi uscendo dal tema dentro la geografia che adesso sembra due ore delle superiori perché perché allo stesso modo come ci sono società di progettazione a Bologna come noi contrario come ci sono società di progettazione come noi a livello nazionale che quindi sono nel nostro settore ci sono a Bologna società di progettazione non nel nostro settore quindi ci sono architetti designer e altri soggetti gente che fa logistica gente che progetta sistemi informatici progettisti con cui non siamo nello stesso settore ma siamo nella stessa area geografica quindi dovrò capire chi c'è e creare una rete di persone incontrandoli uno per uno capendo che con questa persona si può lavorare con questa realtà non si può lavorare con questa sì con questa no con questa sì con questa no e così sono in grado di capire dopo monitorare questo presidio tematico capire dove come il mio posizionamento cresce o cala si sposta a seconda degli altri e nella stessa maniera all'interno della mia area geografica sono più conosciuto o meno conosciuto come funziona la gente sa chi sono sa come è in posizione rispetto a loro e via dicendo questo verso l'estero oddio prendo un po' io con tutti questi fili faccio una finanza io ho i fili l'altra questione importantissima è per me per me e la mia community quindi anche i miei ambasciatori di cui parlavamo prima cosa sto facendo? cioè tutto questo progetto che sto portando avanti a livello di strategia digitale sta servendo a qualcosa? e in particolare la gente con cui lavoro sa che cos'è il community building sa che cos'è il web 2.0 sa come funzionano i social network sa quali social network cioè non può essere che io decido di essere su Pinterest e i miei ambasciatori non sanno cos'è Pinterest per esempio o il mio collega non è su Pinterest perché non ne ha voglia e non sa cos'è o non ci sei però allora tu stai con me qui e guardiamo insieme devi conoscere il profilo per segno come funziona questa roba qua e poi no te lo fai perché è una cosa lavorativa magari ti metti il profilo del tuo gatto non è che si deve essere il nome e il cognome ti fai un'email apposta ti usi la mail di lavoro però te lo fai perché è uno strumento di lavoro e devi poter entrare e guardare come funziona non è cioè vi ricordate cioè non ci sono scuse vi ricordate cosa diceva Luca la volta scorsa cioè non è che dire no io no io le nuove tecnologie non le uso è meglio che dire no io i libri non mi interessano cioè sono sicuro che quando è arrivato Gutenberg c'è della gente che dice no io le nuove tecnologie non no io preferisco le cose non sono cosa per me capito per me sì no ok quella è cultura che viaggia a un ritmo diverso quindi voglio dire pensate se tutti fossero stati contro la stampa come nuova tecnologia adesso dove eravamo cioè quindi voglio dire ecco e poi questa è la cosa un po' più controversa cioè portare lo staff come voce attiva sui social e sui canali digitali poi qui c'è una frase interrotta che non so dove vada a finire tra l'organizzazione e il pubblico probabilmente questo è un po' più controverso nel senso che poi per esempio lì si va questo non è obbligatorio cioè dal mio punto di vista obbligatorio però capisco che possa non esserlo no cioè vi portiamo sempre il nostro punto di vista perché chiaramente ognuno si muove come crede e come riesce però per esempio se le miriadi devono essere tutte su LinkedIn e tutte agire per conto della società su LinkedIn e essere mappabili su LinkedIn per esempio questo è un modo in cui lo staff può essere attivo o viceversa su Facebook noi stiamo di nuovo portando avanti dei valori quindi far vedere che lo staff è in prima persona coinvolto ed è in prima persona un ambasciatore di quello che fa la propria organizzazione è importante può essere un valore molto aggiunto poi è chiaro che se uno è per voto contro i social network fargli fare un account di Facebook e fargli fare le cose è giù quello lì si entra in un dominio in cui va bene che lui dica di no cioè questo ovviamente gli è concesso non può non sapere come funziona Facebook e non saperlo utilizzare ma può ovviamente non avere un proprio profilo e non volerlo utilizzare per scopi personali questo è assolutamente legittimo non c'è niente di male in questo però cioè è come se io dicessi ah no io preferisco scrivere con la penna e Word non voglio saperlo usare no tu Word non è che lo sai usare non puoi è uno strumento di lavoro no microfono eh però anche dopo il secondo punto il secondo punto è un problema di organizzazione interna organizzazione di rete online tra le diverse voci social della rete di partner eh sì e no nel senso che ehm sapere no tu dicevamo prima magari hai una rete di partner una tua community eccetera sapere come il il contenuto si muove all'interno può essere utile cioè non so per esempio tu pubblichi dei contenuti sempre sempre tu e gli altri li condividono forse non va troppo bene questa cosa perché creare un sistema per cui le voci sono molteplici è meglio quindi se siete non so per dire facendo un esempio a caso le miriadi e il 34esimo fuso magari lo comunicano in maniera diversa sui loro canali il fatto che c'è questo laboratorio e ognuno condivide le cose dell'altro non è che le miriadi pubblica sempre e il 34esimo fuso fa sempre share perché se no diventa un copia e incolla no e quindi c'è un modo diverso ognuno con la sua identità di portare avanti la comunicazione questo significa se uno questa cosa la vuole sistematizzare può anche semplicemente essere ok allora di questa cosa parli tu di questo tema parlo io quando c'è qualcosa sulle creative industries ne parli tu se c'è qualcosa sull'urbanistica ne parlo io poi io te la condivido e tu condividi cioè ci si mette d'accordo in questo senso se tu vedi una cosa che riguarda l'urbanistica non la pubblichi te e dici oh me la invidi oh guarda che ho trovato questa cosa qui la pubblichi che secondo me è interessante io la pubblico e tu la condividi capito questo no 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 mandi una mail cioè l'importante è averla sì sì però voglio dire il concetto qui non è tanto tecnico ma operativo cioè semplicemente avere un'idea di come si muove l'informazione all'interno della rete poi è chiaro che se io mi faccio un piano editoriale che invece che averlo fatto su Excel lo faccio su un google doc e quindi posso condividerlo contemporaneamente modificarlo contemporaneamente con un sacco di altri soggetti e allora è più comodo però voglio dire questo è un plus che uno può fare o meno a seconda delle sue esigenze quindi sicuramente dovrò occuparmi di fare in modo che questa mia strategia digitale non si occupi di me no oltre che del cioè alla fine di una digital strategy ben applicata le skill le competenze della mia community sono cresciute ok vi ricordate anche un operano di coprogettazione di lavorare con i propri fornitori cioè andiamo avanti non compriamo cose che poi non sappiamo usare ovviamente bisognerà porsi degli obiettivi anche di reach per cui cioè di quante persone vengono raggiunte attenzione aumentare il numero di visite al sito può essere un esempio certamente aumentare il numero della tipologia di referral che portano traffico al sito i referral sono le sorgenti da cui arriva il traffico sul vostro sito quindi per esempio facebook è un referral se la gente clicca un link su facebook arriva sul vostro sito la gazzetta di lecce che non so neanche se esiste esiste? la gazzetta del mezzogiorno corriere del mezzogiorno gazzetta del mezzogiorno ecco se sul sito la gazzetta del mezzogiorno c'è un link alla mia associazione quello è un referral google e tutti i motori di ricerca si accorgono di quanti referral avete e della qualità di questi referral quindi se voi siete linkati da più parti vi porta su se siete linkati da più parti e queste parti sono importanti perché hanno molti visitatori vi porta ancora più su quindi questo è importante è un obiettivo che io posso prefissarmi e poi un obiettivo di trasformazione del reach sulla parte digitale in reach fisico cioè non cartolina ma quante persone quanta partecipazione digitale si trasforma in partecipazione di persona partecipazione diretta attenzione può anche voler dire non è necessariamente detto può esserci una sfumatura non è necessariamente di persona ma magari che io ho fatto venire qualcun altro che sono riuscito a coinvolgere poi io magari mi ammalo quel giorno non vengo però viene qualcun altro perché grazie a quel canale l'hai venuto comunque a sapere tramite non l'hai venuto a sapere da me che l'ho saputo tramite quel canale cercando anche di capire come funzionano queste dinamiche e un'altra sfumatura leggermente diversa che non è esattamente partecipazione fisica è essere contributors cioè contribuire alla creazione di materiale promozionale in prima persona da parte del pubblico quindi avere un approccio molto attivo questo già può essere classificato nel terzo punto è chiaro che lo show up cioè quanto uno si fa vedere e arriva il numero di persone che arrivano realmente è comunque un dato che io devo in qualche maniera cercare di correlare a questo o capire quanto di quel numero è correlato all'attività che sto facendo online ecco ora se il rapporto prima era 1 a 1000 rispetto all'engagement qui abbiamo anche qui delle regole del pollice si chiamano in inglese rule of thumb cioè delle regole approssimative che però servono un attimo a gestire a darsi un'idea di cosa aspettarsi a gestire le aspettative in questo caso si parla di regola dell'1% cioè sappiamo che una volta coinvolti un centinaio di soggetti ci sarà un rapporto diverso tra quelli che parteciperanno e quelli che contribuiranno in maniera più fisica in particolare la differenza più o meno come linea statistica questo è un dato che vi do non che sia può essere completamente diverso da così la realtà è una regola del marketing digitale che si dà per dire ok queste sono più o meno le aspettative che puoi avere cioè che su 100 soggetti che entrano in contatto tramite le tue attività di outreach sui canali digitali l'1% farà like o scriverà qualcosa e contribuirà in prima persona no scusate l'1% creerà appunto qualcosa e un 9% in questo caso interagirà o farà qualcosa no cioè lurker significa stare sono quelli che stanno in agguato no cioè in inglese lurk behind the corner significa stare in agguato dito l'angolo quindi i lurker sono quelli che sono lì acquattati che guardano vedono cosa succede ma fanno niente però da un momento all'altro possono fare qualcosa forse l'esempio non so se funziona quello perché poi mi sgrida la regia non so se l'esempio calza è come quando si crea sempre su facebook un evento si fanno gli inviti si su 100 persone che scrivono partecipo in realtà ne partecipa solo una minima parte si assolutamente quello si e poi di quelli che esatto si no allora lì è ancora diverso cioè tu hai invitato mille persone di quelle mille un centinaio fa partecipo di quel centinaio poi magari che realmente viene no vabbè adesso lì è un po' diverso non sarà i 10 però sai che ce ne sarà una grossa parte che calerà quindi vedi anche già in quel caso lì queste percentuali non sono rispettate queste percentuali non servono a dire che tutte le volte è esattamente così ma a dire che c'è questa sequenza cioè un tot di persone si accorgono di quello che stai facendo un 10% circa reagisce a quello che stai facendo e un 1% crea qualcosa no? cioè effettivamente dà un contributo maggiore quindi è capito è un po' un discorso di proporzioni ma così non è che voi fate questa roba qua vedete tramite gli insight che 800 persone hanno visto questo contenuto cioè voi pensate che noi quando creiamo post sulla nostra pagina per esempio giusto per darvi anche dei numeri delle cose così degli esempi reali sappiamo che ogni post lo vede tra le 600 e le 1200 persone di quelle 600 1200 persone cioè non è che sono 200 like ok sono 10 like quando sono tutti presi bene da qualcosa al massimo cioè non è che funziona così quindi questo qui serve per darvi un senso di aspettativa no? in modo che voi non pensiate che facendo una determinata campagna domandala tutti quanti improvvisamente arrivino al museo e poi il direttore del museo dice ah ecco vedi hai fatto questa cosa non è servita a niente no tu vai a parlare col direttore e dici guarda questa cosa qui ha più o meno questo rate di trasformazione più o meno allora prima di tutto ti propongo una nuova traduzione di lurker che potrebbe essere lo gnorri no? quello che stai facendo si esatto sa quello che fa ti sei però non si va a vedere e poi abbiamo una domanda da casa Caterina da Genova che ci sta seguendo che abbiamo visto su Real Time Analytics prima che era sul nostro sito ci sta seguendo in streaming e ci chiede come cioè il problema principale che lei vede è l'alfabetizzazione digitale chiamiamola così delle vecchie generazioni da parte di chi lavora nelle istituzioni e deve poi imparare certo appunto quindi chiede come risolvere questo problema eventualmente allora lo dicevamo prima ci sono tanti modi di farlo e non deve essere una cosa violenta però dipende molto dalle persone che stanno davanti fare dei workshop fare delle organizzazioni alle è andato via la luce nel frattempo si vede che sull'alfabetizzazione informatica delle vecchie generazioni ci sono un po' di problemi calano le tenebre allora ci sono diversi diversi dipende veramente tanto dalla struttura citiamo un e tre giusto per fare un panorama allora l'aggiornamento interno per cui si cerca di organizzare dei momenti in cui lo staff più giovane decide di organizzare anche a proprio discapito cioè nelle ore di lavoro fuori anche nelle ore libere rispetto a un po' di materiale e qualcosa per far giocare chi non è abituato a questa cosa con le nuove tecnologie altrimenti ci sono diciamo delle strutture anche esterne che fanno queste cose qui cioè si chiama qualcuno che fa questo tipo di lavoro tipo noi però questo non posso dirlo perché sono in streaming e entra nell'istituzione e trova dei modi per lavorare con l'istituzione in maniera da far capire questo tipo di rilevanza ma ci sono tante altre società che lo fanno oltre a noi quindi noi questo l'abbiamo fatto con tanti museali per esempio perché quello che manca alle volte veramente manca solo questo è il link mentale di queste generazioni tra quello che loro fanno e quello a cui serve questa tecnologia noi per esempio tutte le volte che iniziamo queste cose qui magari prendiamo per mano la definizione ICOM di museo non andiamo a prendere la definizione facebook di museo quindi loro capiscono che è assolutamente rilevante per la loro missione e trovano spesso un nuovo significato ci sono delle resistenze che sono normali ci saranno sempre e sempre ci sono state il terzo modo è cercare di organizzare dei progetti più complessi di crowdsourcing per cui si cerca di ragionare con delle società locali come possono essere ne parlavamo anche ieri le invasioni digitali cose di questo tipo si cerca di organizzare di eventizzare alcuni ne parlavamo anche stamattina proprio alcuni fenomeni in modo da intanto rompere il ghiaccio e poi piano piano quello che era eventizzato e quindi era metabolizzato in maniera positiva solo perché temporaneo quindi ah non mi vuoi costringere a usare facebook facciamo questo gioco che coinvolge anche facebook per esempio o qualche tecnologia simile e poi dopo piano piano ci muoviamo non so se qualcuno di voi perché non mi ricordo ha mai richiesto l'accesso alla piattaforma di comunicare il museo no allora noi per esempio per fare questa cosa qui abbiamo sviluppato una piattaforma che è un social network però non è facebook in cui abbiamo l'iscrizione ad oggi di circa 130 operatori museali che condividono best practice che postano contenuti a cui noi diamo suggerimenti che sono tutti quelli che hanno frequentato i nostri corsi nel tempo è una piattaforma che abbiamo fatto e sviluppato per regione Emilia Romagna e che serve a questo cioè serve a far familiarizzare gli operatori in un ambiente tra virgolette protetto perché non è facebook quindi ci sono i tuoi colleghi lì con quel tipo di logica il tipo di logica che fa sì che tu scrivi qualcosa e lo vedono tutti però in questo caso non sono proprio tutti 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 che tu non sai chi è ma un numero chiuso di persone che allora ce n'è un terzo modo un quarto modo adesso che mi viene in mente mentre parlo che è quello di citare altri soggetti nel senso che per rassicurare la vostra amica di Genova questo tipo di problemi ce li hanno avuti dappertutto cioè vi ricordate ne parlavamo anche di questa cosa anche la volta scorsa cioè anche i case study più importanti al mondo quando io ho chiesto a Shelley Bernstein del Brooklyn Museum che è forse il case study più importante in questi termini nel pianeta al momento poi adesso mentre parlo sono usciti altri 5 che sono meglio lei gli ho chiesto ma scusa ma tu esattamente come hai fatto cioè erano d'accordo i tuoi capi a fare questa roba qui lei ha detto no guarda io le prime cose le ho fatte tutte di nascosto perché tutti erano contrarissimi figurati quando sono stato dai curatori a dire facciamo una crowd curated exhibition cioè una mostra curata dalla gente online che sceglie le opere e noi le mettiamo su cioè i curatori sono andati fuori a comprare delle armi e sono tornati in riunione quindi la stessa identica cosa vale per l'Australian Museum dove la direttrice digital ha creato la pagina Facebook di nascosto e poi l'ha mostrata quando c'erano già 15.000 fan sopra allora il board cosa faccio se la cancello ci sono 15.000 persone il San Carlo di Napoli ha fatto la stessa cosa il MoMA non voleva fare una pagina Facebook la pagina Facebook del MoMA l'ha creato un ragazzino nel Nevada non lo so dove non mi ricordo e poi loro avevano un milione di fan e dicono forse dovremmo fare qualcosa sul fatto che c'è qualcun altro che hanno assunto il ragazzino hanno assunto il ragazzino non hanno assunto la pagina e poi hanno probabilmente io non lo so per vie legali come funzioni anche perché non credo che tu abbia diritto poi sono cose molto delicate si entra in un campo che non è il mio bisogna chiedere a lei come funzionano queste cose qui non lo so però sicuramente poi ovviamente hanno detto va bene tu vieni a lavorare con noi per un po' di tempo e magari poi ci lasci il nostro nome della nostra pagina con il nostro logo no cioè può anche essere che ne avessero diritto quindi nel senso è normale che sia così oltre alle invasioni digitali c'è Museo Mix che è un'iniziativa francese con la quale noi adesso stiamo cercando di che stiamo cercando di sviluppare anche noi che prevede l'invasione da parte di designer grafici tecnici eccetera dentro il museo gratuitamente per fargli delle cose quindi le cose sono molteplici la cosa più importante è non perdersi d'animo perché di nuovo non succederà la prima volta non succederà la seconda ci sarà sempre quello che dirà no perché poi la gente non viene più al museo se io metto le cose online e poi cosa facciamo se qualcuno si scrive su facebook che il museo fa schifo ti rispondi e dici hai ragione adesso guarda ci stiamo lavorando abbi pazienza hai già guadagnato un ambasciatore perché sì poi la gente semplicemente è stufa di parlare con le cose adesso guarda questa è la prima volta che lo propongo però sta venendo la malsana idea adesso Rosanna non ascoltare di creare tipo un manifesto nazionale da far firmare a tutti dicendo per i musei e gli operatori museali dire aiutateci ad amarvi perché ci sta tenendo la vita molto difficile noi vogliamo venire nel museo ma se voi continuate a fare così è molto molto difficile per favore aiutateci capito ad essere appassionati di cultura perché ci vuole molta convinzione vado avanti con le slide perché sennò non mangiamo mai più che ore sono e bam bam ok allora vediamo un po' via con i nomi strani i risultati quantitativi tu vuoi sapere qualcosa? ok i risultati quantitativi sono misurabili attraverso tutta una serie di guardavi le slide ok no pensavo che stessi protestando perché era tardi dovevi parlare di altre cose sono misurabili tramite tutta una serie di nomi strani tra cui il riso organico che è diciamo il modo in cui direttamente i vostri contenuti arrivano a contatto con le persone il riso virale che è il modo in cui le altre persone condividono i contenuti con altre persone ancora e quindi li raggiungete in maniera virale il livello di interazione cioè quanto le persone rispondono ad un stimolo che voi lanciate sulla rete quanti like fanno ai vostri post non alla vostra pagina per dire o su tumblr chi vi riblogga o tutti i gradi di interazione che sono possibili o che voi rendete possibili o sui social network o sul vostro portale per esempio pensate ai gradi di interazione che il Rijksmuseum permette che abbiamo visto ieri puoi anche mettere i cuoricini e via dicendo click through cioè quanti click arrivano da dove flusso di click click attraverso non so come tradurre questa cosa cioè da dove arrivano come si muovono dopo vediamo cosa significa convention rate cioè rispetto a un determinato questo per dire su un e-commerce sarebbe quanti comprano quella cosa che ci sono arrivati cioè su 100 persone che sono arrivati su quel contenuto una la compra per noi non è così può essere anche così perché può esserci il biglietto del festival no? oppure sto facendo un biglietto a donazione quanti donano qualcosa o il biglietto d'entrata del museo il biglietto d'entrata del museo o posso comprare qualcosa sul mio sito sul sito un poster della manifestazione la gente lo compra quello può essere comunque una conversione siate creativi voi nel capire che cos'è il vostro coefficiente di conversione e lo show up cioè quanta gente viene che non è che perché adesso siamo sul digitale non ci preoccupiamo di questo ce ne preoccupiamo poi ci sono i risultati qualitativi che sono tendenzialmente molto più complessi da fare che quelli prima che uno installa Google Analytics o qualche altra marchi ingegno che fa queste cose qui e lo sa questi sono più complicati e hanno altri nomi strani cioè c'è il target fit cioè verificare la corrispondenza tra il target che avete raggiunto e quello che volete raggiungere cioè nell'esempio di ieri per cui abbiamo indicizzato benissimo la nostra la nostra immagine sul sito di BAM c'è scritto cartina Cagliari tutta la gente che cerca cartina Cagliari e lì va sul sito di BAM non sono sicuro che quello sia il mio target cioè probabilmente no ok cioè faccio che se non cerca una cartina di Cagliari non voglia finire sul nostro sito quindi ci sono delle visite che arrivano per quella ragione lì ma c'è qualcosa che non va e quindi di questo mi devo preoccupare non è detto che sia sbagliato cioè magari poi scopro che c'è una correlazione scopro che voglio fare un sito di cartine perché sono più bravo a posizionare quelle capito cioè sono informazioni non sono dati positivi o negativi poi diventano positivi o negativi in fase di valutazione rispetto agli obiettivi però uno può anche scoprire che voleva fare una cosa e gli è riuscita male riuscendo gli male la cosa in realtà ne ha fatta un'altra benissimo quindi l'importante è capirlo poi c'è il livello di passione che non è no non dirò questo siamo in streaming e quindi che è il rapporto tra nuovi visitatori e visitatori che ritornano sia su facebook che sul vostro sito che su altre piattaforme laddove si riesce a monitorare perché se un visitatore ritorna 100 volte in un giorno è molto appassionato oppure ha un virus nel computer che gli sta facendo ricliccare continuamente la pagina ok dunque lì bisogna lavorare per esempio per cercare di farlo stabilizzare sul 50 e 50 perché allora se tutti quanti arrivano sul mio sito non tornano mai più magari quello può essere un problema al stesso tempo se io ho sempre le stesse persone che tornano sul sito quello è altrettanto un problema perché magari vorrei che arrivasse anche qualcuno nuovo ogni tanto quindi se riesco a stabilizzare su 50 e 50 sono bravo poi dipende se sono appena nato è facile che sia 70-30 all'inizio e non c'è niente di male anzi è un ottimo rapporto in fase iniziale altri nomi strani tipi di interazione cioè questa è una cosa che si può fare con un'analisi qualitativa non è una cosa che sono tutte cose queste che non sono fatte automaticamente da programmi sono cose che dovete fare voi preparandovi la cosa l'analisi i tipi di interazione vanno misurati quindi per esempio ci hanno più insultato o più fatto dei complimenti su 100 post su 100 commenti che ho ricevuto ai miei post 70 sono di complimenti e 30 sono di insulti bene intanto sono più complimenti che insulti poi 30 post di insulti sono tanti quindi magari cerchiamo di ridurre quel numero a cosa si fanno riferimento a tutte le cose che ha fatto Beatrice allora vado da Beatrice e dico scusa stai attenta un attimo no prima di licenziarla no per carità arrivano i sindacati no 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 prima di cosa hai postato fammi vedere cosa sta succedendo ecco allora non farlo più perché ci sono arrivati 30 post di insulti quindi questo va verificato il fatto che siano commenti neutri perché boh cosa è successo non lo so secondo secondo punto community skill quello che dicevamo prima verificarlo c'è la fine di tutta la mia strategia digitale di cui io mi sto bullando in tutta la regione con tutti i colleghi in realtà i miei colleghi non sanno un cazzo uguale a prima quindi questo è un problema no cioè non voglio che succeda questo voglio che lo sappiano no cos'è quella faccia lì tu non lo streaming allora facciamo un appunto ufficiale che i laboratori dal basso sono limitati nella loro efficacia dallo streaming quindi le persone in streaming no no non è vero però potremmo fare delle sessioni senza streaming nel quale c'è lo sfogo pubblico del allora occorre verificare il grado di partecipazione della rete cioè della rete inteso della propria rete di partner della propria community perché questo? perché se io sto lavorando su questo progetto e vedo che lui ha scerato 15 volte la stessa cosa non la stessa cosa i nostri contenuti nell'arco di riflessione e tu zero cioè perché me lo spieghi e lo so allora so che lui per esempio è un elemento inerte della nostra comunicazione digitale perché lui odia facebook e lo vuole usare per lavoro ma non per motivi professionali e questo è corretto perché? perché non ha avuto tempo? no tu non puoi non avere tempo capito? cioè le motivazioni sono e quindi questa cosa qui va va affrontata e va capita va misurata e sapere diciamo dare anche dei punteggi noi in alcuni casi abbiamo proprio settato dei punteggi qui c'erano delle reti di partner e volevamo vedere quanto i partner contribuivano alla comunicazione di quella cosa lì da 1 a 5 e alla fine c'erano i partner che avevano 0 in pagella e i partner che avevano 5 in pagella ok allora sappiamo chi sono i nostri veri ambasciatori e sappiamo che alla riunione dopo quando loro vengono e dicono che non si comunica abbastanza gli metti sul tavolo e poi gli dici tu hai fatto 0 come la mettiamo? quindi è un importante strumento di capite l'uso interno della misurazione no? anche questo ovviamente ci sono una serie di strumenti standard questionari questionari online contare no? cioè uno può anche contare quanta gente viene con il coso per contare il clicker lì come si chiama conta persone conta persone credo forse coda ma c'è ma c'è ma c'è insomma sapete cosa di cosa fa conti le persone oppure fai dei questionari online fai dei questionari di carta hai un biglietto giri il biglietto ci scrivi come hai saputo della nostra attività metti una scatola in fondo la gente ti ridà il biglietto hai dei dati no? cioè sono tante tante le maniere in cui si può fare questa cosa basta pensarci perché se tu stampi un biglietto lo stampi già fronte e retro non è che spendi di più a metterci dentro una domanda no quindi se non lo fai è perché non ci hai pensato male e poi ci sono gli strumenti web google analytics facebook insights sono gli strumenti più standard e quelli gratuiti più avanzati non so se avanzati sicuramente ce ne saranno degli altri più avanzati che noi non conosciamo e non utilizziamo gratuiti poi ci sono una serie di strumenti non gratuiti più avanzati eccetera di questo punto se cercate su google ne trovate quanti ne volete e non faccio la pubblicità a nessuno nello specifico poi per esempio c'è cloud chi di voi conosce cloud alzate di mano ok cloud è un social network antipatico che vi informa su quanto voi siete fighi sui social network siete fighi sui social network cioè quanto vi seguono quanto siete influencer in realtà secondo me non funziona molto bene cioè da dei dati un po' buffi cioè non so io quando tutte le volte da noi sembra che ci segua della gente tantissimo che non è vero cioè salta fuori saltano fuori dei dati mia zia per dire che mia zia non ce l'ha neanche cioè ci sono dei dati strani quindi però si può fare voi scrivete la vostra organizzazione a cloud lui vi dà una buona idea di quello che state facendo dei momenti dei contenuti che sono stati più interessanti poi lui incrocia tutte le varie sorgenti social quindi potete metterci dentro facebook twitter instagram equileter e riunisce tutto e vi dà un'idea complessiva del vostro impatto sulla rete non è un documento di istituto piepoli quindi non è una cosa scientificamente corretta secondo me però è uno strumento come dicevamo prima il web è pieno di strumenti approssimativi che si possono usare tranquillamente sapendo che sono approssimativi questo deve essere il nostro approccio poi per esempio c'è google alert che è un altro servizio di google che se voi inserite determinati parametri quando qualcuno pubblica un articolo su un sito internet o qualcosa su di voi ve lo dice quindi questo è interessante perché molto spesso c'è il giornale online di di quartiere della via tal dei tali del delle vedove di guerra e che pubblica quella roba lì e voi non lo avrete mai a sapere se non non ve lo dicono che l'hanno pubblicato e non lo avrete mai a sapere in questo caso con google alert intanto fate un po' di rassegna stampa automatica e trovate delle persone che possono essere ricettive per dei progetti di engagement per cui puoi andare lì e dire ah visto che hai provato di questa cosa perché per la prossima festa non facciamo una media partnership anche perché 9 volte su 10 avranno scritto delle cavolate cioè magari hanno travisato alcune cose che avete scritto e quindi la prossima volta magari fate in modo di dargli il materiale giusto senza sgridarli ma che cioè facciamo questa partnership guarda facciamo dei pacchi così via aiutiamo se avete bisogno ad avere i materiali corretti e poi vabbè c'è social mention che è un altro esempio di misto diciamo tra cloud e google alert che ti dà informazioni su quando e come tu vieni menzionato il tuo grado di impatto però anche questo è un strumento abbastanza approssimativo quindi sono tutte cose che potete fare utilizzare però funzionano fin là adesso vediamo in particolare un paio di questi strumenti cioè google analytics e facebook insights che sono anche giudicati da quello che voi avete fatto ieri durante l'esercitazione sui channel mix forse gli strumenti che è più probabile che utilizzerete ora ovviamente sono strumenti molto avanzati se uno vuole utilizzarli in maniera molto avanzata noi adesso ne vediamo alcune specifiche principali in particolare la possibilità di guardare in real time la gestione dell'audience delle sorgenti di traffico del contenuto il real time allora google analytics se non l'avete mai visto è una cosa che si presenta così più o meno quando lo apri hai settato le tue cose dopo un po' che lo utilizzi lui raccoglie i dati lui raccoglie i dati ovviamente da quando tu lo installi quindi non è che adesso installo google analytics e vedo negli scorsi due anni quanta gente è arrivata no non succede questo quindi installatelo se non l'avete fatto ieri fatelo oggi più o meno si vede così vedete che ci sono conversion rate ci sono trovate alcune delle cose che abbiamo detto adesso organic referral vedete parole buffe di prima allora per esempio real time questa è la vostra amica di genova probabilmente non lo so no 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 eh non è dello streaming questo qui io prima stavo guardando volevo fare ho fatto uno screenshot del real time e c'era una persona che stava guardando la nostra home page ed era a genova quindi c'è una buona possibilità che fosse lei potete chiederle se veniva da facebook perché vedi ci sta dicendo che veniva da facebook real time analytics questo è uno strumento angosciante che permette di vedere in tempo reale cosa succede sul vostro sito è uno strumento che permette per esempio in maniera divertente di vedere che grado di reattività hanno i link postati su facebook rispetto a far portare persone sul vostro sito cioè se io posto un link su facebook cosa succede sul nostro sito noi utilizzando questo sistema abbiamo scoperto delle cose sconvolgenti che vi danno l'idea della massa di lurker per esempio che guardano cliccano poi non fanno niente perché magari non so sull'articolo nostro dei laboratori dal basso abbiamo 60 like metti sul nostro sito quando lo postiamo ci sono 100-200 persone che stanno guardando quell'articolo non è che fanno tutte like però ci sono 200 persone istantaneamente che stanno guardando quell'articolo quindi io so che se aggiungo qualcosa in quel momento ho un grado di attenzione so che questo argomento interessa tot persone e via dicendo che spinge all'azione del click tot persone e via dicendo quindi è un'informazione importante è un'informazione importante che può essere anche utile se uno ne tiene conto e prende degli appunti eccetera per vedere in quali fasi del giorno andare a fare perché magari c'è la fase del giorno di prima mattina in cui tu pensi che nessuno fa like perché sono tutti rincoglioniti dal sonno però magari tutti cliccano e ci danno un'occhiata capito e questo te ne accorgi grazie a questo strumento qui perché questo strumento ti dà l'orario mentre altri poi google non è che di ogni accesso tiene a memoria l'orario tiene a memoria che tu in quel giorno hai avuto tot visite ma non ti dice a che ora ok quindi qui sì però o forse lo fa anche di là ma io non lo so e quindi per il bene dello streaming dico che non lo so e dovete documentarvi allora poi ci sono tutta un'altra serie di parti oltre al real time qui vedete in dashboard cioè nella parte iniziale che cosa c'è allora partiamo da in alto a sinistra e facciamo le colonnine visite numero di visite che quel sito ha avuto numero di pagine per visita 5 quindi abbiamo avuto 1350 visite in questo sito qui di cui 500 di cui ognuna più o meno ha fatto 5 pagine di media questo è un buon risultato dipende da cosa sei se sei Arezzo Wave no se sei un'organizzazione culturale qualunque piccola va bene cioè il fatto già che ma anche se sei Arezzo Wave il fatto che abbiano guardato 5 pagine per visita è un ottimo risultato perché di solito la gente guarda l'home page vede che è successo e va via oppure guarda un'altra pagina e va via di solito si parla di 2 2 pagine e mezza visita buona grazia poi abbiamo la percentuale di nuove visite che attorno al 62% buono 70-30 se siete molto recenti come organizzazione 60-40 è una buona è una buona percentuale 50-50 è l'ottimo però voglio dire se siete diciamo nuovi non va bene che sia 50-50 è meglio che ci siano un po' più di nuove visite visitatori unici 982 cosa vuol dire che rispetto a 1300 ci sono diverse persone che sono tornate più volte sul vostro sito semplicemente poi abbiamo la visita media 3 minuti e mezzo buona visita media di solito dicevamo ieri si parla di 1-2 minuti per un sito diciamo con qualche contenuto 3 minuti e mezzo è un buon risultato su questo sito evidentemente non ci sono degli strumenti per farsi i poster con l'arte fiamminga quindi non ci arriva a 10 minuti però è un buon risultato e abbiamo 6800 erotti visite di pagina sono tante questo è semplicemente la moltiplicazione evidentemente il numero di pagine per il numero di visite fa sì che ci sia un ampissimo numero di pagine viste e poi dopo il bounce rate che cos'è il bounce rate è il non so neanche come si traduca in italiano il coefficiente di rimbalzo no? il coefficiente di rimbalzo che cos'è? è il numero di persone la percentuale di soggetti che sono arrivati sulla vostra home page e sono usciti e sono rimbalzati sul vostro sito questo è un dato che non ha diciamo un valore ottimale diciamo che se voi avete un portale in cui ci sono molte informazioni in home page va bene che sia attorno al 10% 10 15 20% 20% tanto però può essere che qualcuno arrivi dia un'occhiata alla vostra home page veda se ci sono contenuti nuovi e poi vada via se non avete questo tipo di impostazione di sito è meglio tenerlo molto più basso perché? perché io tendenzialmente quando la gente arrivi sul mio sito un po' ci stia e non è che clicchi qualcosa che è in home page e quindi può voler dire per esempio se è molto alto che o state sbagliando i contenuti che sono in home page quindi quando citiamo sempre l'organizzazione c'è qualcuno fate un festival e c'è un evento del festival che è organizzato dal cugino del vostro collega quindi lui vuole che quello lì sia in home page e voi sapete che non va bene perché non è l'evento di punta del festival se voi lo mettete in home page il bounce rate sale perché la gente arriva vede l'evento del cugino del vostro collega non gliene frega niente e va via e non clicca quindi questa è una buona motivazione per dire al collega piantala quello del tuo cugino noi non stiamo ragionando in questi termini nella nostra politica di gestione del sito quindi se fai un sito sui cugini allora possiamo metterlo in home page ma non è questo quindi tendenzialmente l'altra motivazione può essere che state sbagliando qualcosa dal motivo del target cioè che sta arrivando sul vostro sito della gente a cui non interessa quello che voi fate ok o che la vostra home page sì aspetta microfono è acceso ecco adesso è acceso forse mi è sfuggito che lasso di tempo cioè questi dati vengono questo è un mese google analytics lo fa in un mese lo fa di mese in mese però tu puoi mettere il lasso di tempo qualunque le percentuali in particolare non variano è chiaro che il dato di visite sarà no no non ti è sfuggito non l'ho detto io mi sono sbagliato io il dato di visite sarà diverso questo qui è in un mese ma potrebbe essere in un anno cioè io vi sto facendo vedere più che altro le voci quando tu apri google analytics lui di default ti dai il risultato per il mese passato quindi se oggi è il primo giugno lui ti arriverà fino al primo maggio però tu hai proprio gli dici metti dentro le date dal hall e lui ti dà il report ok poi vediamo appunto qua abbiamo già parlato praticamente di molte di queste cose qui vi dà un importante dato per esempio vi dice che questo sito non sta facendo campagna pagamento perché la quarta voce quella gialla non esiste però sappiamo che è un sito che è molto la gente arriva molto per traffico di ricerca la motore di ricerca bing yahoo google principalmente google direi poi vi dice che è molto ben posizionato nei referral perché ci sono un ampio numero di persone che arrivano dai referral quasi quanto il traffico di ricerca quindi vuol dire che c'è un buon lavoro e vi dice che non manda newsletter come ve lo dice che non manda newsletter eh esatto cosa vuol dire vediamo se riusciamo a fartelo indovinare dagli quello lì quindi quella destinata alle persone nello specifico dicono indirizzo preciso tutti qua sì esatto cioè più o meno è questo cioè traffico diretto cioè che io non sto arrivando da nessuna parte ma sono arrivo al sito quindi vuol dire che o arrivo da un client di posta o arrivo però da un client quindi dal computer non da gmail perché se lo ricordo da gmail lui mi segna che sto arrivando da gmail o ce l'ho nei preferiti del computer o sto immettendo l'url direttamente da dalla cosa che vuol dire che ho una certa età non lo so che l'url perché questo è anche interessante no se voi ci pensate l'utilizzo del browser da parte di chi è abituato a questo tipo di tecnologia è anche se solo indirizzo vado su google lo cerco e clicco chi è che digita l'url dentro la barra dell'url chi non è abituato a questo tipo di utilizzo quindi tendenzialmente avrà un'età media più alta domanda in realtà però con i browser attuali che usano molto l'autocompletamento questa cosa potrebbe essere un po' sballata sì sì però vuol dire che tu stai usando chrome sì anche firefox anche firefox adesso sono tutti verso quella direzione sì 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 è vero fin là perché comunque devi scrivere cioè non so anche l'autocompletamento anche l'autocompletamento si stedisce un po' la ricerca su google non lo so è ricerca è ricerca su google se sei su chrome forse anche firefox adesso ti fa parte della ricerca su google non lo so perché io non lo uso tanto la differenza qual è che l'autocompletamento in molti casi cioè tu devi sapere esattamente che cosa stai scrivendo altrimenti devi andare giù c'è un altro fattore l'autocompletamento il fatto che tu devi spingere invio per fargli fare autocompletamento è comunque un grado per cui se tu non sei abituato a quel tipo di cose tu continui a digitare finché non hai quindi c'è un po' questo risultato qui però è vero sì questo cambia però se avete molto traffico diretto non è un dato necessariamente negativo non è neanche un dato super positivo perché vuol dire che è gente super mirata mentre invece vorreste avere probabilmente più traffico di ricerca e più traffico da referral se avete un buon traffico da referral significa che state facendo un buon lavoro di partner che siete citati abbastanza altra domanda non ho capito referral i referral sono i siti che puntano al tuo link in altri posti no non puntano in senso di scommessa che sono link in altri siti esatto c'è anche cioè nel senso che referenze sì referenze hanno un link al tuo sito nel loro sito cioè se tu sul sito delle miriadi magari hai un link al sito del 34esimo fuso cioè se tu clicchi vai sul sito del 34esimo fuso ok allora tu sei un referral per loro perché vuol dire che la gente arriva sul tuo sito clicca e va sul loro quindi qua dentro verrà scritto tot persone arrivano dal sito delle miriadi al sito del 34esimo fuso e lui ti dà questo dato esatto 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 esattamente esatto quindi questo cosa vuol dire che stai facendo un buon lavoro dal punto di vista della community e questo ti paga anche in termini di visite poi ovviamente puoi selezionare ovviamente no però puoi selezionare una serie di dati di demographics rispetto al tuo pubblico la sezione audience in cui puoi vedere che lingua parlano quindi questo è un dato che magari è interessante più negli Stati Uniti o in altri posti dove o in Olanda o in altri posti dove ci sono diverse lingue sul territorio vengono segnalate però per esempio per noi è interessante perché magari vedi che hai un 20% di soggetti che parlano inglese e allora magari gli articoli li traduci man mano che li posti se sei un festival vedere quanti turisti arrivano quello può essere interessante se sei un museo ricordiamoci che se sei un'organizzazione culturale di qualche tipo probabilmente anche un valore turistico quindi non è banale vedere che lingua parla la gente che arriva per offrire un servizio che sia anche semplicemente come ha fatto anche il Rijksmusik ma come fanno anche tante altre istituzioni non l'intero sito in doppia lingua ma le informazioni principali magari hai una sezione in cui scrivi informazioni principali e le metti in sei lingue è una pagina la puoi mettere anche in 15 lingue se vuoi pensa a quanto ti senti figo per dire guarda io le informazioni ce le ho anche in cinese se vuoi tanto cosa voglio dire tradurre gli orari l'accesso tutta una serie di cose magari spendi 80 euro di traduzioni hai sei lingue a disposizione per tradurre sette parole in sei lingue quindi è un servizio che stai facendo e di cui ti può fare accorgere analytics ovviamente vedi da che città da che territorio vedi da che browser quindi capisci anche se quel fenomeno lì di cui dicevi tu è una cosa che quel browser permette o no e quindi capisci meglio se quella questione dell'accesso diretto è vera è un target di età o no se arrivano tutti da chrome probabilmente questa cosa è più mitigata se arrivano tutti da explorer sei puoi incrociare i dati e chiedere di vedere da che browser arrivano gli accessi diretti esatto risoluzione dello schermo esatto puoi vedere tutte queste cose qui no service provider addirittura puoi vedere se uno ha fast web o no questo può essere utile anche per le questioni della banda larga stessa identica cosa vale per il sistema operativo cioè qui vedete anche quanti fanno accesso da mobile al vostro sito quindi quello su cui urlavo ieri è il discorso della compatibilità responsive e compliant dei vostri siti qui la verificate cioè se avete un 1% magari adesso se ho budget per fare altre cose non le metto necessariamente sul rendere compliant il mio sito se ne ho il 15-20% magari comincio a preoccuparmene e devo fare un intervento su questa cosa qua e vedo anche la risoluzione dello schermo questo è un dato che può servire agli sviluppatori vedete qui torniamo alla parte di sorgenti di traffico avete le parole chiave quindi vedete su google e sui motori di ricerca con che parole chiave la gente arriva al vostro sito è qui che noi abbiamo scoperto che la gente cerca cartina Cagliari che ci sono almeno 5-6 persone al mese che sono poche però che ci sono che cercano cartina Cagliari e arrivano sul nostro sito perché noi abbiamo un'immagine che si chiama cartinacagliari.jpg come thumbnail come anteprima del nostro articolo di quando siamo andati a fare la conferenza Cagliari vedete la sorgente di quale motore di ricerca vedete il traffico da referral quindi quali sono i siti che vi portano traffico vedete la landing page vedete anche che i termini sono veri non vi dicevo delle bugie si chiama landing page davvero su cui atterrano da direct traffic quindi quali sono i link delle vostre newsletter che hanno funzionato se voi mandate una newsletter in cui sono tre link da traffico diretto su quei tre link li selezionate e vedete che quello su apranzo cultura è super cliccato quello su un'altra cosa che avete postato che lei compie gli anni non gli interessa niente a nessuno quindi dice ok forse i nostri compleanni non li mettiamo nelle newsletter perché tanto non servono se c'è una buona distribuzione vuol dire che avete fatto una bella newsletter cioè cercate di vedere che cosa che influisce poi se un articolo ha un titolo è stato scritto meglio o un titolo è stato scritto male se è la quinta newsletter che esce tutti gli articoli a cui ha scritto il titolo Elisa non li considera nessuno magari la prossima volta il titolo lo scrive e fa chiara e poi dopo se avete fatto delle campagne a pagamento su Google vi tracca anche quanto arriva dalle campagne a pagamento è l'una e dieci è tardissimo ma abbiamo quasi insomma non è che abbiamo proprio quasi finito e dunque queste qui sono i contenuti perché vi dà per esempio sul numero di pagine totali quali sono le pagine uscite su che percentuale di uscita c'è su ogni pagina quanto tempo viene speso circa un minuto e il bounce rate che abbiamo visto prima che cos'è e qui si vede potete dividere la navigazione dei dati per pagina per contenuto una cosa questo scrivetelo e poi dopo guardatelo dopo chiedete sempre ai vostri sviluppatori di svilupparvi dei siti che utilizzano i permalink che non sono dei link permalosi ma sono dei link che sono permanenti cioè hanno non sono permanenti vabbè invece che essersi scritto a pranzocultura punto it slash otto sette cinque z w x y underscore cinque percentuale venti punto php o qualcosa del genere c'è scritto slash laboratorio questo è importante soprattutto perché quei link con i social con tante altre cose girano soprattutto perché magari a un certo punto state al telefono con la responsabile del comune di galatina che è di quel partito che non vuole toccare internet perché scotta e via dicendo gli dovete dire allora il link da mettere nel foglio al telefono è pranzocultura slash w cinque sette tre dodici dietro il sentimento uno tombola esatto inoltre come dicevamo ieri le parole sono importanti e avere un link parlante che dice che cosa c'è dentro google se ne accorge se uno cerca a pranzocultura magari trova citazioni di tre monti se invece scrive a pranzocultura laboratori e il vostro link si chiama laboratori è facile è facile che lo trovi di più come è facile che lo troviate voi e poi è più carino e tac questo è il comportamento della gente che entra nel vostro sito cioè vedete questa gente è arrivata dall'italia la gente che arriva dall'italia va in gran parte sull'home page poi c'è una parte che va su musei poi c'è una parte che va su impresa poi c'è una parte che va da un'altra parte poi di quelli che vanno sui musei la maggior parte va poi sui contatti quindi vuol dire che sono interessati e poi la parte che invece va non so la parte che guarda le altre pagine ha un drop off più alto la gente che va sulle cose di Museum Next per esempio se ne fila perché magari o va sul blog nostro dove ci sono le risorse o va sul sito di Museum Next cioè ci sono delle ragioni se tu guardi questa mappa di comportamento capisci molto molto molte molte cose e capisci anche qual è il flusso maggiore l'uno è un quarto allora posso scorrerle velocissimamente così ci togliamo il pensiero allora c'è un overview ma allora quanti di voi hanno visto questa roba già? ok c'è qualcuno che deve fare delle domande fondamentali? perché dopo alle tre iniziamo il laboratorio e iniziamo il laboratorio quindi potete chiederci delle cose mentre giriamo ma iniziamo il laboratorio non è che iniziamo con delle domande avete delle domande particolari? perché sennò scegliamo tra le domande e Facebook Insights allora la fai dopo quando andiamo in pausa pranzo lui ha deciso di andare in pausa pranzo no? aspetta fermo dopo 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 allora vado veloce abbiamo alcune sezioni interessanti vabbè qui è l'overview iniziale in cui vedete che non so ci sono 2000 e 002 fan che questo ci porta a un reach potenziale di circa un milione di persone e che le persone che parlano di questa cosa sono circa 60 in questo momento e che il reach totale settimanale è di circa 1500 persone in calo rispetto alla settimana precedente e poi vedete lo schemino in cui vedi la corrispondenza tra il reach totale e i post la frequenza di post che hai fatto sia il reach totale di chi parla di te vedete che le cose seguono un andamento abbastanza parallelo nel senso ovvio che più cose fai più le fai bene meglio le fai più raggiungi persone e più raggiungi persone più gente parlerà di te via 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 dicendo hai dei demographics cioè ti dicono da dove arriva i like da dove di che lingua parlano che età hanno quindi vedete per esempio in questo caso 25-34 mi sembra se leggo bene sia l'età maggiore questo vi dice molte cose anche se voi sul vostro target cioè se è raggiunto o meno vedete la provenienza dei like cioè da dove sono fatti no? vedete che vedete che se sono fatti sulla pagina cioè la gente solo arriva sulla pagina e fa like se sono vengono da raccomandazioni qualcuno ha raccomandato la vostra pagina a qualcun altro vedete ci sono diverse cose ci sono possono essere dei plugin possono essere varie cose in questo caso la maggior parte arriva fatti sulla pagina e vedete che ci sono sia i like che gli unlike cioè quelli che hanno detto no adesso mi fate schifo e esco per fortuna sono pochi quelli lì poi avete il reach cioè rispetto a quel 1500 di reach vedete dove questa gente è che età ha diciamo che i dati saranno abbastanza simili e corrispondenti a quelli precedenti e questo vi dà delle idee su molte cose cioè vi racconta se al di là dei vostri fan le persone con cui loro li condividono appartenono allo stesso gruppo se c'è molta differenza tra i due dati può essere che ci sia che il vostro network sia molto eterogeneo per cui magari la prima fascia è di una certa appartenenza demografica e poi dopo in un secondo livello di condivisione invece cambia la fascia demografica e quindi questo vi dà un maggior impatto altrimenti se rimane esattamente uguale allora volete raggiungere diverse fasce demografiche dovrete preoccuparvi di espandere in qualche altra maniera la cosa perché non lo state raggiungendo vi dà anche il tipo di reach cioè vi dice quello organico quello a pagamento quello virale e la somma delle varie in questo caso per esempio vedete che chiaramente il reach quello totale è quello in cima più di tutti quello a pagamento e quello a zero perché in questo caso questa pagina non ha fatto delle campagne a pagamento e poi c'è quello virale che è quello più interessante vedete cosa succede evidentemente tra il 5 maggio e adesso e diciamo il circa 15 20 maggio i contenuti di quella pagina sono più interessanti del solito per cui o viceversa prima e dopo quella data c'è stato un lavoro che è stato un po' meno interessante per cui i contenuti sono stati meno condivisi perché il reach virale aumenta e supera brutalmente quello organico e quindi vuol dire che rispetto alle persone raggiunte direttamente tramite lo stream della pagina ce ne sono raggiunte molte molte raggiunte dalle condivisioni degli altri ok quindi se il reach organico è più basso del reach virale vuol dire che si sta facendo un buon lavoro poi bisogna dire che anche negli altri punti all'inizio più o meno insomma finché sono allo stesso livello va bene se è molto sotto vuol dire che state postando cose che non sono condivisibili che non sono non condivisibili nel senso che sono sbagliate nel senso che la gente non le condivide fisicamente queste sono le visite di pagina queste qui sono le demografiche della viralità quindi rispetto ai contenuti virali vedi chi sta fruendo quel tipo di demografiche quindi chi condivide cosa e non so per esempio qui c'è Corigliano d'Otranto Trento Corigliano Cagliari che è sempre e poi c'è il tipo di viralità cioè quanti stanno parlando di questa cosa quindi di questa pagina la stanno semplicemente taggando in un post magari e quanti invece hanno proprio condiviso dei contenuti veri e propri vedete che tendenzialmente hanno comunque sempre un andamento simile mi devo cominciare a preoccupare nel momento in cui c'è un andamento dissimile e cercare di capire perché per cui magari sono molto taggato ma poco condiviso questo cosa può voler dire giusto per farvi un esempio eh? può voler dire che qualcuno ti sta qualcuno ti sta taggando ma è un tag forzato per cui non so stai organizzando un lavoro che è poco interessante però lo stai organizzando con dieci persone e tutte e dieci ti taggano e allora magari hai un talking about this altissimo chi sta parlando di te altissimo però un reach virale bassissimo perché in realtà siete in dieci a fare una cosa ma è una dieci è una cosa inutile oppure la siete comunicando male quindi nessuno la condivide peggio ancora esatto fame oggi è pranto eh? oggi? allora vabbè non so non voglio imprigionare la gente non ho capito su che dati si basa le persone che ne parlano questo è un elemento che non ho capito sono le menzioni le interazioni le menzioni le menzioni quindi quando c'è il tag praticamente sì sono dei coefficienti misti quindi non vorrei dire delle cose però sì principale no i commenti alle tue cose no eh non rientrano quindi però le storie generate sì quindi c'è ci sono diversi diverse cose cioè se qualcuno cioè se qualcuno non credo a meno sì no non lo so per certezza ma lo dimentico sì 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 dipende dipende dalle impostazioni di chi ti fa il commento nel senso che se chi ti fa il commento fa generare una storia quindi esiste la timeline il fatto che ti abbia fatto un commento e qualcuno lo vede allora si genera una storia ed è se io non ho questa impostazione non si genera nessuna storia non è non succede non aumenta quel momento dipende dalle storie che si generano io direi andiamo a mangiare poi se qualcuno ha una domanda specifica noi rimaniamo qua cinque minuti che così eh dopo perché dopo alle tre veramente noi iniziamo eh grazie a tutti Grazie a tutti